Ha tentato di togliersi la vita ma in un ultimo disperato gesto ha prima chiamato i carabinieri per annunciare quanto stava per fare. Forse un momento di debolezza, forse la paura del gesto estremo e l'uomo prima di ingerire i farmaci ha chiesto aiuto. I militari della stazione di carabinieri di Monte Rosso Almo hanno così sventato un tentativo di suicidio. Infatti verso la mezzanotte di ieri un 45enne ha telefonato al comandante della stazione dei carabinieri di Monte Rosso riferendo di volersi suicidare con un'ingestione volontaria di farmaci. Il comandante della stazione capita la gravità della situazione ha cercato di farlo desistere dall'insano proposito ma la comunicazione telefonica si è così interrotta bruscamente. È stata quindi allertata la pattuglia dell'arma in servizio che prontamente si è recata l'abitazione dell'uomo e dopo aver sfondato la porta d'ingresso lo ha trovato ancora in vita riverso sul pavimento. Intorno all'uomo un cappio dei flaconi di medicinali vuoti e un foglio che riportava le ultime volontà testamentarie scritte di proprio pugno. Il malcapitato dopo un controllo effettuato dal personale della locale guardia medica è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Ragusa dove è ancora ricoverato. Sono in corso gli accertamenti di rito per risalire i motivi dell'insano gesto. La freddezza, l'esperienza e il lavoro della squadra svolto dai carabinieri hanno forse permesso di scongiurare un'altra tragedia personale e familiare.